Ciao a tutti i bimbi belli, i bimbi brutti, i bimbi che fanno i rutti, io sono FaviJ, sto scherzando, io sono Ray e sì, è tantissimo che non pubblichiamo video in questo canale, però siamo umani, abbiamo tutti quanti impegni, purtroppo non è facile gestirli tutti quanti, poi sono successe anche delle cose molto interessanti, ma non è di questo che volevo parlare, perché ho qua un piccolo video su un argomento che forse vi potrà interessare, IT, ma va, esatto, IT capitolo 2, sta per giungere nelle sale il 5 settembre. A sto giro non ci fanno aspettare un mese e mezzo in Italia, grazie! Il finale della storia che è stata adattata per il cinema nel 2017, incassando un casino di lilleri e portando molte persone con sicuramente della paglia nel cranio a dire che era meglio la miniserie. A questo proposito io e mio cugino abbiamo fatto una reaction a quel troiaio del 90 che purtroppo non abbiamo potuto caricare su questo canale per via del copyright, potete però trovare tutto il video, dura circa un'ora e mezzo, sulla nostra pagina Facebook, non solo film, o al link in descrizione, e non sarà difficile da notare perché il titolo è La miniserie è una merda? Ricci! Questo cosa vuol dire? Ma perché? Ricci! Spoiler, sì. Bando alle ciance, cercherò di essere il più rapido possibile a elencarvi tutto ciò che sono riuscito a dedurre sul film in questione, basandomi sui vari trailer e i spot usciti, almeno fino ad oggi. Ne sono stati pubblicati una marea, ma a sto giro sono stati piuttosto bravi a non spoilerare troppo, poi probabilmente perché sono stati anche bravi a non farsi inculare alla sceneggiatura come nel 2017, dato che l'avevo già letta, non è detto quindi che tutte le mie deduzioni siano corrette al 100%, quindi boh, staremo a vedere se ho ragione o meno. Se ci vogliamo anche puntare dei soldini, no, perché non ne ho, quindi niente. Ho voluto fare questo video perché passo la metà delle mie giornate a pensare a It, dato che le persone si stanno anche preoccupando, è giusto che io metta a frutto questa mia capacità, perché, diciamocelo, anche nelle ipotesi, credo di avere una specie di sesto senso a riguardo chiama la trasmissione del pensiero, chiama la empatia, chiama la telepatia, ma che cazzo vuoi? Ho colto l'occasione adesso che c'è stato un attimo di pausa nella promozione, non so perché, quindi in caso se dovesse spuntare fuori qualcosa di nuovo, e sicuramente accadrà, ve lo farò sapere nei commenti o in un altro video, non lo so. Ad ogni modo ecco le 10 cose che vi siete completamente pescati nel guardare i vari trailer di It Chapter 2, almeno secondo il sottoscritto. Che cazzo c'ho ai capelli? C'è un caldo ragazzi, sono sudatissimo. Ma ovviamente, siete avvertiti ragazzi? Occhio ai minchia di spoiler. Number one! Partiamo subito leggeri con lo spoilerone gigante, anche se è un po' il segreto di Pulcinella. Siete pronti? Ok, tanto lo sapete, non è che occorre aver letto il libro. Il povero Stan Yuris non reggerà l'idea di tornare a Derry dopo la chiamata di Mike, pertanto si toglierà la vita tagliandosi le vene in bagno e lasciando la scritta insanguinata It sul muro, che ormai è iconica e spero verrà utilizzata nei titoli di testa. La sua triste dipartita era già anticipata nel finale di capitolo 1, pensate, perché Stan è il primo ad andarsene. Il secondo è Eddie, quindi fate di questa informazione quello che credete. Volete altre prove della morte di Stan? Non è presente a Derry con gli altri, nella famigerata scena del ristorante cinese, c'è una sedia vuota, e persino durante la scena con la signora Kersh appaiono sei mosche in un cerchio sul vetro. Sei come i perdenti rimasti. Tra l'altro io ho visto in anteprima quella scena lì del ristorante cinese ed è una bomba. I perdenti hanno davvero una bellissima chimica tra di loro e sembra di vedere effettivamente i personaggi bambini che abbiamo conosciuto nell'altro film cresciuti. Il casting è fenomenale. Comunque, sempre riguardo al povero Stan, in una scena a Nibble Street comparirà un frigo assai simile a quello da cui usciva Pennywise, solo che stavolta ci sarà pigiato dentro qualcun altro. Non vi svelo altro perché ho letto comunque la descrizione di questa scena e da quello che so è parecchio disturbante. Numero 2 A proposito di perdenti in cerchio, sembra che questo film mostrerà proprio il rituale di chado, chudo, cherd, non ho mai capito come pronunciarlo. Del terzo atto del film si sa veramente poco e fortunatamente non è stato svelato nulla della forma che prenderà Pennywise. Il ragno, lo ricordiamo purtroppo dalla miniserie del merda, nel libro è la sola forma che i perdenti riescono a visualizzare perché la sua vera entità è qualcosa che va al di là della loro comprensione. Comunque, da qualche spot possiamo vedere qualcosa di interessante, delle specie di tentacoli luminosi che sembrano ricalcare quelle dead lights visibili nelle fauci di Pennywise nel primo capitolo. E la sua tana, nascosta oltre la porta con un simbolo che i fan del libro riconosceranno, sembra quasi essere una cavità nelle viscere della terra, quasi come il cratere di un meteorite. 3. A proposito di meteorite, sembra essere presente anche qualcosa del libro che era stato omesso in precedenza, ovvero l'affumicatoio costruito sottoterra in cui i perdenti hanno la visione dell'origine di It. Qua sembra essere Mike da adulto a svisionare tra i fumi, in questo rituale appreso da una comunità di nativi americani. Non è ben chiaro cosa questo comporti nel film, ma sembra che, quanto a trip mentali, tra allucinazioni tangibili, viaggi nello spazio-tempo e leggi della gravità puttane, i losers ne vedranno di cotte e di collude. Ebbene, io credo che nella scena finale del capitolo 2, questa scelta stilistica di intrecciare e mescolare passato e presente bambini e adulti nello stesso luogo, possa essere in qualche modo sfruttata come era accaduto in una vecchissima versione della sceneggiatura, quella di Dave Kashganich. In essa, le barriere spazio-temporali nella tana di It si annullano, mescolando passato e presente in un paradosso che vede adulti e bambini aiutarsi a vicenda per sconfiggere Pennywise. Numero 4. Parlando dell'origine di It, è bene dedicare un punto a parte per chiarire una cosa a tutti quelli che nel vedere il teaser trailer se ne sono usciti con frasi come hanno cambiato il libro, hanno reso It un umano posseduto, che schifo. Non è assolutamente vero. L'alter ego circense Bob Gray è presente anche nel libro e è solo un modo che ha Pennywise di prendersi gioco delle sue vittime. Lo vediamo infatti apparire a Beverly, in quella che sembra una visione della sua vecchia casa che gradualmente diventa sempre più fatiscente. Apparirà anche suo padre? Probabile. Come? Non lo so. Five. Nel trailer si intravede quella che sarà la triste storia di Adrian Mellon, giovane omosessuale picchiato a sangue da delle facce di cazzo, era attuale nell'85 e purtroppo lo è ancora di più adesso. E questi stronzi lo gettano da un ponte dritto nel fiume. Beh, non andrà molto bene. Il suo truce omicidio, morso alla scella e compagnia bella, sarà ciò che fa ripartire il nuovo ciclo di It, 27 anni dopo quello del capitolo 1. E il buon Mike, ossessionato dalla ricerca di un modo per sconfiggere It fino al punto di diventare quasi un tossico, decide di chiamare i perdenti dopo aver assistito proprio a questa terribile scena. Sei. Parliamo invece di questa lunga sequenza, ideata da James McAvoy e dal regista Andy Muschietti mentre erano ubriachi putridi di vodka e tequila. A quanto pare il festival del canale, durante cui troverà la morte il suddetto Adrian Mellon, sarà teatro di un incontro spiacevole per il povero Bill. Schiacciato dal senso di colpa per la morte del fratellino, Georgie, si richiederà alla sua vecchia casa e seguirà il bambino che ci abita fino al Luna Park, preoccupato che gli succeda qualcosa. Beh, qualcosa succederà e a giudicare da questo nuovo Funko Pop non andrà proprio benissimissimissimissimo. Siete. Sempre grazie a uno di questi pupazzetti de merda. Possiamo intravedere cosa accadrà al povero Ben, che vedrà riapparire sulla propria pancia la cicatrice della scritta che Henry Bowers voleva incidergli col coltello serramanico. Vi ricordate? Voleva incidere il suo nome, però ci scrive solo l'H. In una sequenza intrippante, vediamo Pennywise comparire in uno specchio mentre tiene Ben in una morsa. Peccato che non si legga cosa c'è scritto sulla panza di Ben. Oh 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 oh. Otto. A proposito di Bowers, sì, è ancora vivo. È riaffiorato dalle fogne dopo lo scontro nel capitolo 1 ed è stato ritrovato a galla nel fiume tutto insanguinato insieme ai centinaia di bambini defunti, quelli che galleggiavano nella tana di Hit, ricordate? E quindi è stato arrestato e portato in un manicomio perché, appunto, accusato di tutti gli omicidi. Ma verrà anche lui chiamato a raccorte dal buon Pennywise, quindi ci sarà da divertirsi. Nove. E questa bambina chi è? Eh, è una poveretta che non farà una bella fine, anche lei temo. Seguirà questa lucina sotto a degli spalti per poi trovare quella merdina di Pennywise intento a far finta di piangere. Come mai piangi? Gli chiede lei. Nessuno vuol giocare più, tu vuoi giocare con me? Conto fino a tre. Uno, due, tre. Ecco che passi i baggressi, Wise spalanca la bocca e gnam. Un classico. La prossima volta, bambina, ricordati sempre. Fatti i cazzi tuoi e Campa Centano. Uh, dieci. Ok, allora, mi sono tenuto questa teoria per ultima. Raga, può essere anche che sia infondata, però ogni modo occhio a sti spoiler. Ci siamo? Allora, a giudicare dal materiale promozionale, Richie Tozier, ormai adulto, vede riaffiorare dei ricordi rimossi di quando da ragazzino era stato attaccato, proprio come nel romanzo, dalla statua di Paul Bunyan. Ed ecco che da adulto, proprio da quella statua, vede spuntare Pennywise. A giudicare da alcuni filmati fatti da dei ficcanaso durante le riprese, Pennywise direbbe a Richie che conosce il suo sporco segreto e che è pronto a dirlo a tutti. Ma di chi starà parlando? Bene, in quest'altro spot si parla proprio di segreti, di ricordi che vengono nascosti nei recessi più remoti della nostra mente. E proprio mentre la voce narrante, credo, del giovane Stan dice questa cosa, ecco apparire Richie, da piccolo, che incide qualcosa sul ponte dei baci, quello dove Ben era stato malmenato da Bowers e Sochi. Cosa sta scrivendo? R più? E poi? Beh, come molti teorizzano, la lettera mancante potrebbe essere la E. E come Eddie. Allora, non lo so se lo sapete, ma l'internet pullula dei ragazzini che scippano questa coppia in modo ossessivo da anni. Quindi da quando è comparso questo spot, questi twin scippatori seriali stanno uscendo di senno e di conseguenza, metà del fandom serio di Hit, è incazzato a morte. Perché sono degli idioti. Allora, ci vengo a dire, io sono il primo a cui fanno incazzare sti rincoglioniti con i loro video farciti di transizioni radiali su Instagram, ma non perché teorizzino una possibile tensione omosessuale tra due personaggi di un libro o di un film, chi se ne frega, ma perché ampliano questa cosa agli attori che, lo ricordiamo, sono soltanto ragazzini. Quindi, prendiamocela per le cose giuste. Perché chi si incazza per questa possibilità nel film in arrivo probabilmente si è scordato la differenza tra fanfiction e sceneggiatura. E dal punto di vista della sceneggiatura, questa possibilità ha molto senso. Eviterebbe intanto la ridondanza di avere un terzo personaggio invaguito di Beverly, che è l'unica ragazza del gruppo, oltre a Bill e Ben che già generano quel triangolo che non avevo considerato. Poi, darebbe più profondità al personaggio di Rishi, che anche nel libro non è poi così approfondito, evitando così di relegarlo al ruolo di buffone rompicazzo sboccato. Metterebbe poi in un'altra luce le sue battute sconce e ostinate, che diventerebbero quasi un modo per compensare la sua confusione in ambito emotivo, e darebbe un peso ulteriore a, spoiler, ciò che accadrà alla fine del film. Già, perché Stan non è il solo essere assente dopo lo scontro con Pennywise, anche il povero Eddie verrà a mancare, quindi ecco la mia teoria. Rishi ha dei sentimenti confusi per Eddie, che probabilmente nemmeno se ne rende conto, perché ha un'idea dell'amore completamente distorta grazie alla sua mammina di merda, però Rishi questi sentimenti li nasconde agli altri e soprattutto a se stesso, tra prese per il culo a Eddie, battutacce scatologiche, riferimenti a quanto c'è da lungo. Un giorno si ritrova a incidere sulla staccionata la scritta R+, ma non la completa, forse perché ha paura di essere visto, forse perché i bully gli stanno addosso, forse per autocensurarsi perché ha paura di se stesso, di ciò che è o potrebbe essere veramente nel profondo. Ecco che quindi da adulto, probabilmente anche per via della morte di Adrian Mellon, perseguitato perché è omosessuale, questi sentimenti riaffiorano in Rishi, che viene addirittura preso in giro da Pennywise, stuzzicato proprio per questa cosa, ora che non è più un bambino e quindi questa sua paura è assai più concreta e definita. Immaginate quindi Rishi che dopo lo scontro finale, e quindi la morte di Eddie, decide di onorare la sua memoria tornando al ponte e completando finalmente quella scritta fatta da bambino, R più E. È solo una teoria, ma questa cosa fornirebbe non solo una soluzione molto elegante per parlare di una cosa delicata, perché lascerebbe al pubblico il compito di unire i puntini, ma fornirebbe anche una valanga di fils e pianti inimmaginabile. Io già lo so che quando arriverà nei titoli di coda di questo film, frignerò un casino. Ok, che ne pensate? Vi sono piaciute ste minchiate che ho detto? Voi avevate scovato qualcosa? Vi siete incazzati per i potenziali spoiler? E se sì, perché cazzo l'avete visto sto video? Video che peraltro è sponsorizzato da Come Formica in Fila, una storia di paura, amicizia, amore, morte e nostalgia. Per amanti di Stephen King, 500 pagine di brividi estivi assicurati. Scherzo, il libro l'ho scritto io, quindi non sponsorizzo un bel niente. Ma se siete curiosi di leggerlo, cliccando al link in descrizione potete ordinare il mio romanzo nel formato che preferite, Kindle, ebook, cartaceo, così ci guadagniamo entrambi. Voi vi leggete una bella storiellina sotto l'ombrellone, io pago le bollette e la chirurgia plastica per farmi diventare come Casei Frey. Ok, ricreazione finita. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per le notifiche, guardate per l'amor di Dio tutti gli altri video che abbiamo fatto, non voglio più ripetervelo, anche perché, uno, abbiamo bisogno del vostro aiuto e due, siamo troppo figli. E niente, mi raccomando ragazzi, state lontani dai canali di scolo, almeno finché Pennywise non si rimetta a nanna. Ciao! Ciao! Ciao!